Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene e che stai trascorrendo una splendida giornata. In questo video parleremo di Genoa, ebbene sì, perché nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche il primo acquisto ufficiale dell'era Shevchenko, vale a dire Silvana FT, classe 1997, acquistato per una cifra attorno ai 4-5 milioni di euro dallo Young Boys. Prima però di andare a vedere un pochino, di andare a parlare un pochino del giocatore e vedere come potrebbe collocarsi nello scacchiere dell'ex centroavanti del Milan, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per rimanere a giornare sui news del canale, supportate le mie serie gameplay e date uno sguardo al mio secondo canale, qui sotto nell'info box troverete il link. E soprattutto mi raccomando iscrivetevi, in quanto soltanto un quarto di coloro che vedono i miei video sono iscritti al canale, quindi a voi non costa nulla e mi raccomando, appunto per rimanere aggiornati, se vi interessa i miei contenuti, iscrivetevi, ma veniamo a noi. Chi è Silvano Efti? Appunto terzino destro, classe 1197, acquistato per 4-5 milioni di euro dallo Young Boys, giocatore che è approdato appunto Young Boys nel 2020 dal Sangallo. Un terzino destro di 182 cm, dotato di una buona fisicità, ma che soprattutto ha veramente una grandissima corsa, nonostante appunto i 182 cm non gli conferiscano una statura, o anzi una conformazione fisica veramente da bronzo di riace, però comunque insomma dal buon fisico, è un giocatore veramente dato di grandissima corsa e di ottima progressione, soprattutto palla al piede, tant'è che ripeto, lui molto spesso è stato impiegato come terzino destro, ha una buona tecnica di base, un buon cross e anche un discreto feeling con il gol. Può crescere sicuramente molto, soprattutto perché il Genoa non gioca con una difesa 4. Ben siccome una difesa 3, ultimamente Shevchenko da quando allenava la nazionale Ucraina ha cambiato modulo con il quale schierava la squadra, quindi da un 4-3 a un 3-5-2, ma in questo scacchiere tattico, FT, dove può essere collocato? Allora, lui è definito il nuovo Lichstein, comunque per progressione, per le tue tattiche, per i buoni tempi di gioco e di inserimento, anche per la visione tattica quando deve sovrapporsi sia internamente che esternamente, che magari anche tagliare verso il campo. Però, c'è un però, molte partite lui le ha giocate da difensore centrale. Il Genoa gioca con una difesa a 3 e il centrale di destra, tecnicamente, è Biraschi, un Biraschi, che non è assolutamente un incedibile per il Genoa. Gioco forza, mi vien da pensare che FT potrebbe essere schierato come difensore centrale di destra, o meglio, scusate, come braccetto di destra, il Genoa difesa a 3, anche perché, ripeto, lui, avendo questa grande, diciamo, prorompenza fisica, sa reagire molto bene ai contrasti e comunque questa buona velocità e questa buona tecnica, lo rendono molto funzionale qualora deve partire palla dal piede della difesa. Quindi sarebbe un difensore, un braccetto di destra, quindi un difensore centrale di destra, che appoggia il centrocampo, che dà via l'azione. Anche perché poi su quella fascia avrebbe Cambiaso, sappiamo tutti che Cambiaso è un ambidestro, che può giocare se a destra che a sinistra. Un Fares a sinistra per il Genoa, che non si sa se rimarrà o meno, quindi Cambiaso potrebbe essere dirottato a sinistra, con a destra un X giocatore e in questo caso potrebbe essere funzionale FT come braccetto di destra, potrebbe ovviamente anche ricoprire la posizione di tornante di destra, quindi fare, diciamo, il ruolo, l'esterno a tutta fascia. Però, secondo me, potrebbe essere molto funzionale, soprattutto come braccetto di destra, perché, come laterale, o tu hai uno stile di gioco improntato a schiacciare la squadra avversaria nel proprio tre quarti campo, quindi agendo veramente da 3-5-2, allora il gioco forza FT, con la sua capacità fisica, con la sua resistenza, con il suo dribbling, con il suo distretto dribbling, per essere insomma un terzino di base, con la sua buona qualità, può essere funzionale, perché appunto fa doppia fascia, un po' appunto come il Lichsteiner epoca Juventus, ma se il 3-5-2, per una squadra che è come il Genoa, che insomma sta lottando per noi procedere, quindi è più impostato come un 5-3-2, beh, un FT può essere un po' limitato, ecco, cioè non si enfatizzano le doti del calciatore, quindi ecco perché lo vedrei molto più utile al Genoa come braccetto di destra, magari con un difensore centrale un po' più roccioso, con un braccetto di sinistra altrettanto, hanno Van Oysden, hanno Vasquez, comunque giocatori veramente interessanti, e secondo me, in un certo senso, Vasquez a sinistra e un FT a destra, in questa difesa 3, potrebbero essere veramente funzionali e che si andrebbero a compensare. Inoltre, in questo ruolo di difensore intermedio di destra, può, diciamo, formarsi, può venirsi a creare quella famosissima difesa, che io la definisco un po' basculante, no? Quindi una difesa che si va a strecciare verso destra o verso sinistra, in base a come si sviluppa il gioco. In una mia analisi sul Genoa, ho mostrato appunto quanto Vasquez ami giocare sulla fascia sinistra, quindi appunto questo è un sintomo, diciamo, un segno, che il Genoa gioca molto con questa sorta di difesa shiftabile, basculante appunto. Ecco perché, ripeto, nel Genoa di ora, quindi in un Genoa che lotta per non retrocedere, quindi che il 3-5-2 è più vicino ad essere un 5-3-2, ecco che questo giocatore, talentuoso, classe 97, lo metterei come braccetto di destra. Mi viene difficile pensare che Shevchenko voglia optare in questa seconda parte di stagione per il modulo 4-3. In quel caso, ovviamente, un FT potrebbe tranquillamente giocare sulla sua fascia di competenza, quindi dove ha giocato più o meno, insomma, 150 partite in carriera, quindi tante per, insomma, un giocatore che deve compiere 25 anni in quel ruolo, intendo, quindi quello di terzino destro. Lì appunto sarebbe il suo ruolo naturale, ecco che lì magari lo sviluppo del gioco è diverso. Però, ecco, non penso, ripeto, che l'Ucraino stravolga così la squadra, anche perché non avrebbe gli uomini, non avrebbe gli esterni, o meglio, gli esterni avrebbe, il problema è che hanno poca qualità, e magari uno di questi esterni è Pandev, e capiamo bene che il gioco forza è Pandev ormai a 39 anni quasi, e non può rendere come rendeva 15 anni fa. Quindi, spero ovviamente di esservi stato utile per capire un pochino chi è, chi è, appunto, questo nuovo acquisto del Genoa, ricordo, approdato da Ryan Boyce al Grifone per una cifra attorno ai 4-5 milioni di euro. Non è ancora conosciuta, diciamo, la durata del contratto, però ovviamente suppongo che almeno sia un quadriennale, o quantomeno, per lasciarsi un pochino il beneficio e il dubbio nelle stagioni che verranno, magari un trennale più uno di opzione. Staremo a vedere. Spero, appunto, di esservi stato utile, in tal caso c'è un legale video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, supportate i miei seri gameplay, e soprattutto iscrivetevi al canale. Vi rimane un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!